Terzo giorno del festival del film Locarno e a strapparsi la scena non poteva che essere lei Hilary Swank, il Leopard Club Award di questa edizione, la grande attrice americana che con una doppietta di film notevoli nel giro di cinque anni, prima con l'indipendente Boys Don't Cry e poi con Million Dollar Baby, firmato ovviamente Clint Eastwood, nel giro di cinque anni non solo riesce a centrare una storica doppietta di Oscar, ma riesce anche a portare sul corpo delle sfide interpretative capaci di costruire poi una galleria di personaggi al femminile decisamente anticonvenzionali. Cosa vogliamo dire del talento e della carriera di Hilary Swank? In carriera ha ottenuto due nomination all'Oscar, per Boys Don't Cry e per Million Dollar Baby. Entrambi i film sono proiettati qui a Locarno. In entrambi i casi ha vinto la statuetta, oltre a questo ci sono una lista di nomi, di grandi autori con cui la Swank ha collaborato nel corso degli anni, il già citato Clint Eastwood per Million Dollar Baby, ma ad esempio anche autori del calibro di Christopher Nolan, Steven Soderbergh, Brian De Palma e in futuro anche Alejandro Inarito con cui girerà una serie TV. Quindi c'è poco altro da aggiungere per quanto riguarda il Leopard Club Award 2019 e non possiamo che fare ancora i complimenti alla grande Hilary Swank. E dopo una grande attrice femminile, questa sera Piazza Grande sarà in stile porte girevoli d'albergo perché subito dopo un altro grande interprete americano come Joseph Gordon-Levitt, protagonista del film tedesco 7500, un thriller aereo per una suspense ad alta quota. Mentre invece per la prima proiezione di Crazy Midnight in Piazza Grande, a concludere la serata ci sarà Greener Grass, ovvero il film rivelazione dello scorso Sundance, un testa-coda trash che ribalterà la classica famiglia americana. Greener Grass mette in scena questi due madri della middle class americana che vivono in questo mondo che gli americani chiamano norm core, cioè la norma spinta ai suoi estremi dove niente deve essere considerato strano o non appartenente appunto a questo mondo fatto di regole. Loro fanno garden party, si invitano a vicende, tengono bene la casa, fanno i muffin con delle piccole decorazioni, sono perfette, finché un giorno una di loro per gentilezza e amicizia regala all'altra il proprio bebè. Lì tutto questo mondo perfetto comincerà a andare fuori dalle ruote e come sulle scie di un John Waters con un taglio molto molto pop, il film finirà col spezzare ogni regola possibile. Passando al concorso internazionale, al concorso cineasti del presente, incrociamo oggi le programmazioni per trovare degli abbinamenti perché per esempio ci sono due film, ancora una volta il femminile, che in modi diversi entrano in uno spazio chiuso che può essere fisico, mentale o surreale. In Maternal di Maura Del Pero c'è un centro italo-argentino religioso per ragazze madri, noi invece in Love Me Tender della ticinese Claudia Reine che siamo di fronte a una persona che soffre di agorafobia e non esce mai di casa. Lo si chiama sguardo femminile, ma sarebbe più giusto femminista. Due autrici affrontano temi cruciali per la contemporaneità, l'aborto ancora negato in Argentina di Maura Del Pero e il sistema patriarcale, ancora così presente in Svizzera, di Claudia Reiniche. Due approcci diversi, realismo e astrazione, per affrontare una nuova idea di donna. E rimaniamo ancora con lo sguardo incrociato tra i due concorsi principali perché anche l'altro abbinamento ci porta a dei film molto profilati, in cineasti del presente Space Dogs è forse uno dei film più estremi di Locarno 72 con uno sguardo che va al di là dei criteri antropocentrici, lo firma il duo austriaco-tedesco Kremser-Peter. Mentre nel concorso internazionale forse c'è il film più sensuale dell'intera selezione, il francese Douze Mille di Nadege Trebal, là dove però la sensualità dei corpi può venire corrotta da alcune delle necessità della società contemporanea. From the very beginning, Douze Mille by Nadege Trebal blew me away because I realized how incredibly rare it is to see a film in which you deeply believe in the sexual connection between two people. It's a film that without being explicit or really showing any skin, makes you believe in the power of an erotic connection and then goes beyond that to really analyze the connection in our time between our sexual lives and political and economic violence and exploitation. This young director Nadege Trebal manages to take these difficult themes to a level of mythology, though she's also deeply anchored in a kind of French social realism and in that sense I feel that it's a unique and deeply impressive first fiction feature. Ma questi naturalmente sono solo alcuni degli spunti, delle suggestioni di tutto quello che potrete trovare oggi al Locarno Film Festival, vi lascio con Traileristing per avere anche un antipasto a livello di immagini. TECLARISM Ma questo compolare il così naturale è stato cercato ora stimulate Grazie a tutti Grazie a tutti